Una lettera al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo e ad altre autorità locali e nazionali. E' la mossa delle segreterie provinciali e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, tranne la Will, per denunciare la situazione delle carceri abruzzesi e soprattutto dell'Istituto di Pena di Teramo, gestito dal Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise, guidato da Maurizio Veneziano. I sindacati chiedono la rimozione di Veneziano a cui attribuiscono la responsabilità di una riorganizzazione dei circuiti dei detenuti che dura da ottobre e che ha provocato continui rimbidi e trasferimenti l'ultimo ieri ordinato all'ultimo minuto. Questo ha comportato il blocco dei colloqui tra detenuti e familiari, il richiamo in servizio di personale dalle ferie dal riposo e il ricorso al lavoro straordinario. Nel carcere di Castronio il rinvio ha scatenato vehementi proteste da parte dei detenuti interessati dai trasferimenti, che si sentono disorientati e lesi nei loro diritti. Il personale operante è impegnato a mediare con i ristretti per evitare che la situazione degenere in rivolta. I sindacati inoltre denunciano che il provveditore veneziano ha sospeso per due volte negli ultimi 20 giorni il trasferimento in altre sedi dei 67 detenuti del circuito di alta sicurezza, che ha negato le molteplici richieste di trasferimento motivate dai gravi eventi accaduti nel carcere Terramano. Questo atteggiamento, secondo i sindacati, rende il lavoro della polizia penitenziaria più difficile e gravoso e genera una sorta di senso di impunità tra i detenuti, nonostante le sanzioni inflitte ai responsabili dei disordini. Va specificato che la Will regionale si è dissociata totalmente dai contenuti della lettera inviata e ha chiarito con una nota che la missiva circolata non rappresenta in alcun modo la posizione di questa segreteria regionale rispetto alle criticità reali da noi rilevate nel carcere di Terramo. Ci dissociamo ufficialmente dai contenuti e dalle richieste riportate, tra l'altro la nota riporta in intestazione un logo Will in disuso da svariati anni.